Con le premiazioni di questa mattina si è chiuso Start Impresa, il corso di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria promosso dalla sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chiedi Pescara e giunto alla sua undicesima edizione. Cinque progetti giunti in finale presentati dagli aspiranti imprenditori e valutati dalla giuria di esperti. Start Impresa non è un semplice contest che premia l'idea migliore, ma un percorso formativo che fornisce agli imprenditori del domani gli strumenti adatti per costruire il motore e far volare le loro idee, permettendo ai partecipanti di capire realmente come costituire un'azienda o una start-up di successo e impostando un progetto d'impresa. Start Impresa è un'iniziativa che portiamo avanti ormai da ben 11 anni, questa è l'undicesima edizione e dà l'opportunità a chi ha un'idea, chi vuole avviare una propria attività imprenditoriale di venire a conoscenza di quelle nozioni di base che gli permetteranno poi di avviare la propria attività. Non è un contest in cui andiamo a premiare l'idea migliore, ma è proprio un percorso formativo e oggi andiamo a concludere questo percorso premiando i migliori business plan perché il tutto è finalizzato poi alla costruzione di un business plan che è lo strumento principale per i nostri discenti per andare poi a banche, a Venture Capitalist per farsi poi finanziare il loro progetto. Grazie a tutti.